In piedi! Cosa fai il capoclasse? Devi imparare a farti ubbidire. Vai a sederti al tuo posto. No, 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 state seduti, seduti. Il dottore mi aveva consigliato di rimanere a casa un altro giorno, ma non ce l'ho fatta a rimanere lontano ancora dalla scuola. Preferisco rimandare a domani le interrogazioni sugli argomenti del trimestre. Oggi faremo un compito di matematica in classe. Però prima qui ho i vostri componimenti sulla visita del re. Vero sì, vieni avanti e leggi il tuo che, come al solito, è il migliore. Leggi. Componimento, il nostro re, svolgimento. Una cosa gli darei se egli me lo domandasse. Il mio sangue. Perché morire per la patria è il più grande premio che si possa ricevere in vita. Così è esclamato il padre di un mio compagno, Coretti, dopo che il re gli ha stretto la mano. Aveva gli occhi lucidi. Franti, perché ridi? Ti ho visto, sei stato tu. Franti, fuori. Perché? Non sono stato io. Ti ho detto fuori. No. Ho detto fuori. No. Franti, forza, vieni qui. Quando ti dico fuori, ho detto fuori, 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 fuori. No. Fuori. No, non voglio andare fuori. Fuori. Non scappare, sai, ti ho detto fuori. Vieni via. Vidello. Vidello. Vieni, signor Maestro, dica. Porti questo mascalzone dal direttore. Signor Maestro, subito. Dopo trent'anni di scuola. Senza aver mai alzato una mano su un alunno. Signor Maestro, non si affligga. Noi le vogliamo bene. Grazie. Di qua. Di qua, di qua. Avanti. Avanti, su. Una fila di qua e una di là. Di là. Così. Ecco. Avanti, senza spingere. Senza spingere. Bambini, cammini. I più grandi aiutino i più piccoli. Tutti seduti ai vostri posti, capito? Dov'è? E senza capricci. Brava. Qui. Qui. No, cos'è questo? Lo dai. E tu che ci fai qui? Sono venuto a portarle il tema perché... perché era per lei. Grazie. È un pensiero veramente carino. Sì. Grazie. Grazie. Italia, patria mia, nobile e cara terra, dove mio padre e mia madre nacquero e saranno sepolti, dove io spero di vivere e di morire. bella Italia, grande e gloriosa da molti secoli, unita e libera da pochi anni, che spargesti tanta luce ed intelletti divini sul mondo... Signor maestro, mi faccio la grazia, faccio riammettere il mio ragazzo a scuola e togliti quel capello. Signor maestro, lei è tanto, tanto buono, signor maestro, troppo buono, signor maestro, lei ha tutte le ragioni. Sono sicura che mio figlio ha meritato ad essere sospeso, sono sicura che ha meritato tutto perché è proprio un cattivo, ma cercate di capirmi. Non sono qui per accusare nessuno di essere stato cattivo, sono qui a cercare una grazia, signor maestro. Sono tre giorni che mio figlio è a casa e fino adesso sono riuscita a tenerlo nascosto, ma non ci riesco più, signor maestro. E se Dio ne guardi il padre viene a scoprire la cosa, mi ammazza e ammazza anche lui, signor maestro, ci ammazza tutti e due, signor maestro. No, non faccia così, la prego, si alzi. Signor direttore, mi faccia la grazia, signor maestro. No, prego, signora, venga, venga. Perboni, andiamo nel mio ufficio. Signor direttore, per piacere, abbia compassione di me, per piacere, è il mio figliolo, io li voglio bene, spero di vederlo cambiato prima di morire, mi ha promesso che sarà buono, per piacere me lo riprenda ancora una volta perché non succede una disgrazia in famiglia. E lei, signor maestro, lo faccia per chietare di una povera donna. Farò del mio meglio. Perboni! Sì, vengo. Un attimo, signora. Sì, vengo. Sì, vengo. Devi essere buono, figlio mio, devi essere buono, devi essere. Ringrazio a questo santuomo, mi ha supplicato che in che te li ammettissi, l'ho fatto solo per tua madre, quanti. Grazie, signor rivettore, ha fatto un'opera di carità, vedrà che non avrà da pentirsi, da adesso in poi sarà buono. Grazie, signor maestro. No, prego, non è caso. Lo vedi come sono buoni? Hanno avuto compassione di tua madre. Adesso, mi raccomando, fai il buono. Abbiate pazienza tutti. Grazie. Grazie. Ritornate in classe voi. Andiamo. Pranti, tu uccidi tua madre. Posso andare? Vai al tuo posto. Grazie. 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 Grazie.